E sono qui, sempre più chiuso in me, mentre mi parlo in serio, saprò che c'è un moscerino nel caffè e chissà chi mi ha fatto venire qui, forse la voglia di sapere che ci sei Scusa, è tardi, io dovrei quasi ritornare, è un modo educato per dirti che vorrei sparire e lasciarti lì così e mentre ti guardo svalire dentro ad un portone, mi sento più forte o forse è solo un'impressione mi hai lasciato solo una spray e resto qui, sempre più chiuso in me, mentre cammino io sento che quel moscerino è dentro a me, e chissà chi mi ha fatto star con te forse per poter di, che sarà il mio carnet bravo! bravo! bravo!